Buon pomeriggio a tutti, fare puntati sulla Champions League che oggi torna con i primi quattro gironi, le prime partite che vedono il Milan in campo contro l'Underlecht, domani sarà la volta della Juventus a Londra contro il Chelsea. Cercheranno interesse anche per una sfida davvero affascinante, al Bernabeu il Real Madrid di Mourinho riceverà il Manchester City di Roberto Mancini. Con Leonardo Cesaroni andiamo subito in grafica per presentare al migliore dei modi la giornata Champions di oggi nel gruppo A, scendendo in campo Dinamo Zagabria e Porto, Paris Saint Germain, Dinamo Kiev, parleremo anche del Paris Saint Germain con alcuni particolari sulla formazione ma anche sulla situazione attuale di Ibra che con il Paris Saint Germain si è sbloccato definitivamente determinando l'ultima vittoria in campionato contro il Tolosa. Nel gruppo B, Montpellier Arsenal e Olympiacos Schalke 04. Andiamo avanti, ecco qui il gruppo del Milan, il gruppo C, Malaga Zenit e Milan-Underlecht. L'ultimo precedente all'ammeazza tra Milan e Underlecht vide i rossoneri vincere per 4-1, era l'edizione della Champions League 2006-2007 che poi si concluse con il grande trionfo della formazione rossonera strascinata soprattutto da AKK. Gruppo D, Borussia Dortmund, Ajax e Real Madrid, Manchester City. Insomma non mancheranno di certo le emozioni questa sera per l'esordio Champions di molte formazioni agguerritissime. Allo stesso Zenit di Spalletti ad esempio si è rinforzato moltissimo in estate con l'arrivo del Bomber dal porto Hulk e della centrocampista del Benfica Winsell. Possiamo rientrare...